Musica Ben trovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, apertura dedicata al calcio alla Lucchese che domani riprende gli allenamenti. Le feste sono quasi finite, almeno per la Lucchese, dopo qualche giorno di meritato riposo la truppa rossonera riprenderà gli allenamenti. E domenica mattina, in vista della sfida contro il Propriacenza, in programma il 6 gennaio alle 14 al Portelisa, mister Galderisi ha deciso di far lavorare i suoi ragazzi tutti i giorni. Lunedì è in programma una doppia seduta, martedì un amichevole contro un avversario ancora da definire. Inutile dire che i rossoneri vogliono cominciare il 2015 nel migliore dei modi e dunque questi giorni saranno sfruttati al massimo per arrivare alla sfida contro gli emigliani nella condizione psicofisica ottimale. Il tutto mentre la società sta pensando al mercato. Il direttore tecnico Giovanni Galli sta lavorando su questo fronte ormai da diverse settimane. Come annunciato, non dovrebbero esserci soltanto degli arrivi, almeno tre, uno per ogni reparto, ma anche numerose partenze. Ha preso via questo pomeriggio l'edizione 2014 della LUDEC Cup, il torneo di basket riservato agli Under-14, organizzato ricordo di Luca del Carlo in campo a San Concordio, la selezione della Toscana contro le Marche e il Lazio contro la Liguria al Palassuore di Porcari, Lombardia-Umbria ed Emilia-Romagna-Campagna. Domani fitto appuntamento sin dalle 9 del mattino in entrambi i palazzetti. Lunedì le finali al Pala Tagliate di Lua a partire dalle 9.30 con la finalissima a primo e secondo posto alle 16.30 che sarà trasmessa in diretta da Noi TV. E chiudiamo con il karate, l'eccellente risultato conseguito da Carlo e Francesco Betti, due maestri domenica scorsa a Capannori hanno conseguito il quinto dan di cintura nera superando gli esami previsti dalla Commissione Tecnica della FICTA. Alla fine dell'esame i fratelli Vetti hanno ricevuto le congratulazioni del loro maestro Sandro Ferrari. È tutto per lo sport, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi la terza parte della TG Noi.